ciao sono matteo ho 26 anni e ad aprile mi sono laureato in design del prodotto al politecnico in una laurea magistrale come tesi ho progettato una scarpa concentrandomi principalmente sulla parte 3d della calzatura dunque in questo progetto ho capito che per diventare un 3d future designer vero e proprio dovevo approfondire le parti più tecniche della calzatura per capire come vengono prodotte per capire com'è il processo di produzione vero e proprio della scarpa e quindi ho scelto arsutoria che ha delle fortissime competenze tecniche riuscire comunque a progettare una scarpa che possa entrare all'interno di una produzione industriale volevo comunque unire la mia il mio background su progetti magari innovativi di 3d stampa 3d eccetera con le parti più tradizionali tra virgolette comunque tecniche che sono indispensabili per la riuscita di un progetto Al prossimo episodio Fa' stata una nuova